Dal 24 al 26 ottobre l'Assemblea Nazionale che prevede l'incontro di tutti i sindaci d'Italia sarà ospitata proprio qui, proprio a Genova. È sicuramente un onore e un privilegio poter accogliere i colleghi e le amministrazioni di tutta Italia, sarà un'occasione davvero importante. Credo che sia fondamentale che Anci Liguria abbia voluto sottolineare il fatto che sono i sindaci a unire lo stivale, a unire la nostra Repubblica. È prevista la partecipazione straordinaria del nostro Presidente della Repubblica, ci saranno numerosi ministri a cui abbiamo il dovere, il compito e anche il diritto di poter portare le nostre battaglie, il nostro grido di dolore, il nostro essere in trincea per i nostri territori. Credo che sia davvero un'occasione molto importante e invito tutti i colleghi a farne tesoro e a poterla valorizzare e ad essere presenti con noi.